A quanto ammonta il patrimonio di Totti e Ilari Blasi? Il pupone e la conduttrice dovranno spartire diversi milioni di euro A quanto ammonta il patrimonio di Francesco Totti e Ilari Blasi? I due divi stanno per diventare ufficialmente ex marito ed ex moglie, ma le cifre da contendersi sono davvero inarrivabili Di quanto parliamo? Leggi anche, perché Fabrizio Corona odia Ilari Blasi e Totti? Cosa è successo in passato? Ecco finalmente tutta la verità A quanto ammonta il patrimonio di Francesco Totti e Ilari Blasi? Nonostante le pratiche del divorzio siano ormai ovviate, Francesco Totti e Ilari Blasi convivono ancora sotto lo stesso tetto, soprattutto per il bene dei loro figli Ovviamente il pupone e la conduttrice romana vivono insieme da separati in casa, ecco cosa si legge sul Corriere della Sera La villa di Totti e Ilari, infatti, sarebbe stata divisa in due e ognuno vive nella propria ala dell'immensa abitazione Il patrimonio della coppia ammonterebbe a circa 110 milioni di euro. Ma come verranno spartiti? La spartizione sempre sul Corriere della Sera leggiamo come verrà spartito il patrimonio di Francesco Totti e Ilari Blasi Sul famoso giornale, infatti, leggiamo, la delusione del pupone Francesco Totti, inoltre, starebbe facendo i conti con la delusione da parte di un amico Secondo quanto riportato dal Corriere, la persona interessata non avrebbe avvertito il pupone delle mosse scorrette di Ilari Blasi, seguici su Instagram cliccando qui E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video